Ritualmente Piano, eh? Piano, eh? Tu, qua, qua Ah, ah, basta l'alto, stala quella Non è scanto, non è scanto Si, tu devi venire dietro le zampe mia Che volete vedere? Dai, dai Tu, le zampe mia, vieni Eh, sì, sì Eh, eh Giorgio Tu vedi le zampe mia Ma come cammini che le vacche vanno in quella? No, no, non lo so più io Non lo so più io, non lo so più io Vedi che c'è un posto Vedi che c'è un posto Vedi, vedi, vedi Ah, su Vedi, vedi, vedi Vedi, vedi Vedi, vedi Ah, ah, eh E la vede piano di pure, eh Tu, bene Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Giallo, vedi le vacchette Eh, eh Eh, eh E Ah 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 No, 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 no. tutti i miei pezzi col fiorino serravallo bella vabbè fai l'allungare ecco si è pieno via vabbè 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 con gli altri 10 metri possiamo scappare anche dopo i miei pezzi vabbè vabbè questa lì quella della spostata 10 cm verso il fiorino va bene va bene quella adesso arriviamo con questo e poi partiamo qui, facciamo la mara rossa metterla io, giù no, no, tiriamo io qui, questo è il surfuso e lo pupiamo qui adesso scappiamo l'erba america scappiamo qui, no? allora lavorate fino a che dì? facciamo ora quale vieni qui, vieni qui vieni qui vieni qui vai muore faccio qua vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui e questo è il baria che ha tre biscotti qui va bene no? vieni qui non c'è la chiaia per cambiare la ruota vieni qui facciamo ora quale guarda super vieni qui tu bella vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui Vai Luna! Vai Luna! Vai Luna! Lasci le fare un minuto Fale riposare Lenta un pochetto, lenta Arredo, lenta!